Musica Buongiorno da Alessandra Buccia e benvenuti al Consulseto, appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano il Petruzzelli, dietro il commissariamento della fondazione, c'è un preciso disegno politico per screditarmi e imporre un modello di gestione delle fondazioni basato sulla precarietà. L'ha detto il sindaco Michele Emiliano in conferenza stampa poco fa, a poche ore dalla decisione del ministro Ornaghi di commissariare la fondazione. Ce le parla Silvia Dipinto. Sulla pelle del Petruzzelli si gioca una partita che non riguarda il teatro e c'è chi sta mandando al macello tanti lavoratori per colpire la mia faccia. Il presidente della fondazione Petruzzelli, Michele Emiliano, chiarisce i passaggi che potrebbero portare entro 30 giorni al commissariamento. Ho chiesto io ieri in una telefonata informale al ministro Ornaghi di procedere in questa direzione perché non ho intenzione di sacrificare altri martiri come Vaccari. Il ministro voleva il nome di un nuovo sovrintendente ma gli ho ribadito che non ci sono le condizioni di equilibrio finanziario necessarie alla fondazione. Ornaghi avrebbe anche rifiutato di convocare un incontro con i membri del CDA per discutere ed elaborare un nuovo modello di gestione. Da questo la richiesta di Emiliano di un commissario che controlli i conti e fughi ogni dubbio su presunte operazioni illecite. Ho capito che il ministro non vuole commissariare perché è chiaro che nel momento in cui la palla sulla gestione di una complessità di questo tipo dovesse andare direttamente nelle mani del ministero attraverso il commissario, lui, il ministro, avrebbe i problemi che oggi ho io. Petruzzelli come Pomigliano insiste Emiliano. La verità è che vogliono imporre un modello di gestione delle fondazioni basato sulla precarizzazione dei lavoratori. E se vincono qui andranno avanti nel resto d'Italia. Ma io non mi arrendo, combatterò la crociata della stabilità dei lavoratori. Intanto chiederò al CDA di non fare contradduzioni e di non designare un nuovo sovrintendente. Così si procederà subito al commissariamento. Intanto, se come paventato si ritarderà l'elargizione della prima parte del FUS, la stagione potrebbe essere compromessa. A questo punto voglio conoscere le ragioni per le quali il ministero non vuole Baccari. Qual è la ragione? Che Baccari non è uno di quei sovrintendenti, diciamo così, graditi in generale? Perché se fosse così la cosa sarebbe gravissima. Ma quello del commissariamento non è l'unico problema che incombe sul Teatro Petruzzelli. C'è un'altra domanda che resta ancora senza risposta. Il Teatro Petruzzelli ha l'agibilità o no? Ce ne parla Serena Russo. Non è soltanto il rischio commissariamento che coinvolge il Politeama Barese in queste ore. La questione è realtà vecchia, esattamente di 40 giorni fa, ma non per questo meno attuale. Il Teatro Petruzzelli potrebbe essere in difetto di un certificato di irregolare agibilità edilizia riguardante le norme di sicurezza e di risparmio energetico. A porre l'attenzione sul quesito il capogruppo della lista Simeone, Giuseppe Loiacono, che il 13 gennaio di quest'anno ha inviato un'interrogazione al primo cittadino e presidente della fondazione per ottenere una risposta. Il 23 dello stesso mese, poi la stessa, è stata inviata ai direttori delle ripartizioni edilizia privata, edilizia pubblica e sviluppo economico. Ma l'unica risposta ricevuta è stato il silenzio. Tanto da indurre Loiacono, 30 giorni dopo, come da regolamento, quindi il 13 febbraio, a presentare un sollecito. Credo che i miei dubbi erano fondati, lo sono ancora di più, atteso che non arrivano risposte, quindi il procedimento per il rilascio dell'agibilità edilizia il Comune non l'ha mai rilasciato. Mi aspetto che il Sindaco mi dia una risposta definitiva riguardo alle competenze di questo procedimento. Lei non si è fermata all'interrogazione, ma allo scadere esatto dei 30 giorni ha inviato anche un sollecito, quindi il 13 febbraio. Sì, in effetti il regolamento del Consiglio Comunale prevede che l'amministrazione debba rispondere entro 30 giorni agli interroganti. Questo non è avvenuto, quindi mi sono avvalso dell'articolo 59 del regolamento per sottoporre un ulteriore sollecito. Spero che la risposta arrivi quanto prima. Sarebbe da capire se la licenza per i pubblici spettacoli che il Petruzzelli invece possiede includa anche l'agibilità e se quindi il problema permanga esclusivamente per le starze del Circo L'Unione aperte al pubblico. Saranno le comunicazioni ad aprire la seduta del Consiglio Comunale convocata per le 17 a Palazzo di Città. Un pomeriggio che si preannuncia tranquillo, visti gli argomenti scritti all'ordine del giorno. Tra gli altri la concessione in uso di alcuni locali di proprietà comunale alla Chiesa di Santa Croce e l'approvazione dei regolamenti sulla consulta degli studenti universitari e del cerimoniale del Comune di Bari. Siamo alla pagina politica, Terzo Polo verso la prima conferenza programmatica. Questa mattina la presentazione del programma per la convention di sabato. Il servizio. Non un rifugio di delusi ma un progetto politico che ha mandato a casa il bipolarismo fasullo all'italiana rappresentato tanto da Prodi quanto da Berlusconi. L'assessore alla toponomastica Filippo Barattolo lancia così la prima conferenza programmatica del Terzo Polo a Bari che sabato porterà nel capoluogo pugliese l'atto fondativo della federazione tra i tre partiti Fli, Api e Udc patto già sugellato a livello nazionale da Finicasini e Rutelli. Prevista la presenza degli onorevoli Benedetto della Vedova, Mauro Libe e Pino Pisicchio sabato sarà sottoscritta un'intesa programmatica con le proposte unitarie del Terzo Polo per Bari come spiega il vice sindaco Alfonsino Pisicchio. Queste tre forze possono insieme interloquire e dare anche presupposti di azioni concrete per il futuro di questa città. E sui rumors che vogliono l'ingresso del consigliere di futuro libertà Vito Lacoppola in giunta non una smentita secca, noi non chiediamo poltrone, sarà il sindaco a decidere. Non la poniamo come questione politica, quindi è una questione che si porrà se si vorrà porre ma diciamo più come volontà terza ma non da parte del Terzo Polo. I prossimi 25 e 26 febbraio il PDL è chiamato a rinnovare i vertici provinciali nel primo congresso del coordinamento del Barese. Oggi la presentazione della mozione di Staso che ha presentato la sua lista di 15 candidati. Durante la conferenza stampa richiamo all'inchiesta sulle tessere truccate esplosa in occasione del congresso cittadino non è mancata. Si è deciso comunque per garanzia di trasparenza di non puntare su sedi decentrate per il voto ma su un seggio unico a presiedere le operazioni Nitto Palma che garantirà la trasparenza delle procedure. Gli effetti del divorcio sulle famiglie e la nascita dei nuovi poveri è questo il tema del dibattito che si è tenuto ieri nel circolo Unione organizzato dal Lions Club Bari Trigiano Marina. Ad aprire i lavori il presidente Fulvio Solimando che ha sollecitato i relatori ad individuare responsabilità e soluzioni partendo dall'analisi di un nuovo fenomeno quello dei padri separati che ingrossano le file della povertà. Il presidente del tribunale Vito Savino ha citato un dato allarmante a Bari in una settimana vengono trattati 100 procedimenti di divorzio e se per l'avvocato matrimonialista Luigi Liberti è necessario che il legale assolva la funzione di conciliatore della coppia il monito più accorato è stato rivolto alla politica con la richiesta all'assessore a baticchio di un sistema di welfare a sostegno della famiglia. Presentati questa mattina i progetti finalizzati alla promozione dei prodotti lattiero caseare nell'area compresa tra Noci, Gioia del Colle e Putignano un triangolo d'oro della filiera virtuosa del settore l'iniziativa fortemente voluta dalla provincia di Bari è finanziata dall'assessorato alle attività produttive all'obiettivo di creare una sinergia che coniughi cultura, tradizione e capacità imprenditoriale. Il prossimo 26 febbraio a Putignano sfiderà nell'ambito del carnevale un gruppo mascherato che con costumi divertenti promuoverà i prodotti caseari. All'aeroporto di Bari invece sarà organizzata una degustazione di prodotti. Con Genius Loci nasce il primo museo virtuale della memoria collettiva pugliese è un portale online che conduce in un viaggio virtuale alla scoperta di tradizioni, cultura, mestieri e gastronomia pugliese. Il sito promosso dall'associazione di volontariato Auser Puglia è stato presentato questa mattina. Sono gli anziani i veri protagonisti del progetto il loro ruolo serve a ricostruire l'identità del territorio. Il museo virtuale è aperto al contributo di tutti i cittadini pugliesi interessati a tramandare e condividere ricordi e informazioni sul nostro patrimonio culturale. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore e nuvolosità sparsa, venti prevalentemente deboli soffieranno da nord, temperature comprese tra 10 e 12 gradi, mari poco mossi. Vi ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Il telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie per aver guardato il video.